La Lega è l'unica che combatte contro questa Europa e dice no all'euro, senza incertezze e senza via di mezzo, come fa Marine Le Pen in Francia. La Lega sono io perché l'euro è stata una fregatura che ci sta massacrando e questa Europa delle banche mi fa schifo. Voglio uscire dall'euro perché lo sa anche un bambino che per una moneta unica, economie troppo diverse, crea disoccupazione, rafforza i forti e indebolisce i deboli. Grazie a tutti.